Il mondo è cambiato e visto che è cambiato si sono piegati pure i militari. Non voglio dire che si siano piegati in modo negativo. Le guerre oggi sono di carattere diverso. Oggi nessuno si scalierà su di noi come ci si scaliava negli anni 50. Non ci saranno delle truppe ad attaccarci come è accaduto nel 1941. No, così non succederà, perché l'ambiente è cambiato. Diventerebbe una cosa troppo ovvia, effettivamente diventerebbe la terza guerra mondiale se succedesse. Ci scuoteranno da dentro, ma noi l'abbiamo già vissuto in parte. Ci hanno sconvolti leggermente in agosto dopo le elezioni, ci hanno assaggiato, hanno dato un morso e si sono rotti i denti. Adesso ci azzenderanno per bene, ci azzenderanno dall'interno. Perché ve lo dico? E ve lo dico apertamente. Noi uomini militari saremo costretti a difendere il nostro paese proprio da qui, dall'interno. L'esercito non deve essere in attesa che qualcuno attraversi la nostra frontiera ed è lì che si andrà a prendere un'arma per entrare in guerra. La guerra si avvia da qui.